benvenuti al nostro incontro sono toni quattrone e oggi parleremo di autonomia differenziata come sicuramente molti sanno l'autonomia differenziata fortemente voluta dalla lega nord è stata approvata dal parlamento il 19 giugno 2024 anche col voto di diversi parlamentari del sud il presidente della repubblica mattarella ha posto la sua firma qualche giorno fa e ora l'autonomia differenziata è una legge applicabile in tutto lo stato nazionale in tutto il territorio nazionale abbiamo chiesto a marco esposito giornalista economista autori di diversi libri e meridionalista di darci una mano e spiegare che cos'è l'autonomia differenziata e quali saranno gli effetti sul territorio gli abbiamo inviato delle domande lui ci ha gentilmente risposto con dei brevi video che ora vi presenteremo la prima domanda che ho fatto a marco è stato un po provocatorio perché gli ho chiesto di definire proprio in modo più breve possibile che cos'è l'autonomia differenziata grazie toni di questa straordinaria occasione di comunicazione l'autonomia differenziata è diritti differenziati per residenza più breve di così non sono riuscito a immaginarlo in questi anni in cui abbiamo parlato di tanti temi costituzionali complicati da capire e marco è stato proprio bravissimo ha accettato la provocazione ed è stato estremamente chiaro ho chiesto nella seconda nella seconda domanda che ho fatto a marco chiesto qual è il rapporto se c'è un rapporto fra la spesa storica una cosa cui ci siamo battuti tantissimo contro la spesa storica e l'autonomia differenziata il principio che è scritto nelle preintese non è quello della spesa storica si dice bisogna andare sui fabbisogni ma i fabbisogni vanno misurati udite udite in parte in rapporto alla popolazione quindi più malati più studenti significa più necessità di risorse ma in parte in rapporto al gettito fiscale nazionale riferito a quel territorio quindi significa che un territorio più ricco ha più fabbisogno di tutela dei disabili di tutela degli anziani non autosufficienti eccetera eccetera questo è assolutamente pernicioso del resto la spesa storica si basava appunto sulla ricchezza quindi nei fatti significa ritornare alla spesa storica almeno per i nidi non dovrebbe succedere niente perché lì grazie a una battaglia dei sindaci 70 sindaci che fecero ricorso si è riusciti a introdurre un vero LEP livello essenziale delle prestazioni e quindi non solo c'è come dire la determinazione l'indicazione di questo livello che è un posto al nido per almeno un bambino ogni tre ma c'è anche un'altra cosa importantissima sono stati stanziati i soldi certo progressivamente ma al 2027 i comuni avranno tutte le risorse aggiuntive per poter sostenere questa la spesa di questi asili nido quindi almeno lì dove è stato fatto un lavoro molto preciso molto puntuale ma in solo servizio non dovrebbe cambiare nulla grazie Marco per questa spiegazione ho posto la domanda Marco di cosa succederà nel campo della sanità ed ecco la sua video risposta la sanità è un caso particolare perché già regionalizzata da tanto tempo e quindi ci fa vedere in modo chiarissimo come le differenze territoriali sono aumentate con servizi più ricchi in qualche territorio ma anche più poveri di medicina di base e scadenti in altri cosa succederebbe con l'autonomia differenziata che verrebbero modificati in base alla ricchezza dei territori i salari gli stipendi l'obiettivo del nord è convincere infermieri e medici del mezzogiorno ad abbandonare i propri territori in difficoltà e a trasferirsi in posti dove possono ricevere un salario più elevato è evidente anche in questo caso il danno che ne avrebbe tutto un paese in una situazione demografica che facciamo fatica a capire qui in Italia in cui siamo vicinissimi al collasso ormai è certo che non nasceranno più bambini in futuro perché semplicemente è uscita diciamo dalla fase riproduttiva la generazione più numerosa e però sembra che le cose ancora vadano bene tirino avanti perché le persone nate negli anni 60 che è la fascia più numerosa in Italia è ancora è una fascia ancora produttiva quando questo però di qui a non tantissimo finirà il paese si renderà conto del tunnel nel quale si è infilato e immaginare che spostare le persone gli anziani dalla Lombardia alla Liguria i giovani dalla Calabria all'Emilia Romagna sia una soluzione è veramente follia. Grazie di nuovo a Marco per questo intervento e l'ultima domanda che pongo a Marco che ho posto a Marco è forse quella più scottante cosa possiamo fare? Cosa si può fare? Ce lo chiediamo un po' tutti intanto rendiamoci conto che si può vincere perché questa è una battaglia di civiltà e una battaglia per la sopravvivenza dell'Italia come comunità ho detto prima del tema demografico che sarebbe stravolto accelerata la crisi con questa con questa riforma con questa deforma quello che si può fare con certezza è unire le due battaglie premierato e premierini perché lì ci sarà certamente un referendum un referendum senza quorum quindi conta chi va a votare e lì se riusciremo a far capire che il disegno è uno cioè l'idea che chi prende un voto in più nella regione diventa premierino e fa il bello e cattivo tempo per 5 anni con il consiglio regionale che deve obbedire altrimenti va a casa tutto quanto e allo stesso modo a livello nazionale quindi si va a replicare il modello delle regioni dove a volte hanno vinto presidenti col 33 34 per cento dei voti e hanno avuto cinque anni di potere totale senza alcun contraddittorio reale democratico interno e questo lo si vuole fare a livello nazionale l'unico confronto che sarà ancora consentito in Italia sarà proprio il dibattito tra il premier e i premierini che faranno un braccio di federo continuo cioè da immaginare sui poteri che verranno definiti e ridefiniti volta per volta è un sistema che elimina praticamente pesi e contrappesi e che quindi va respinto in blocco vincere alla battaglia sul premierato significherà vincere anche la battaglia sui diritti differenziati per residenza ringraziamo marco esposito per queste risposte estremamente chiare la battaglia contro l'autonomia differenziata è molto importante per i nostri territori vedremo le nostre forze politiche del sud le organizzazioni le associazioni militanti cosa vorranno fare vedremo anche se ci saranno degli interventi alla corte costituzionale come alcuni giuristi hanno hanno prospettato bene noi completiamo qui questo nostro primo video a questo primo intervento questa su una questione che tocca il sud e ci vedremo presto con altri ciao per ora